Assemblea del Comitato di Quartiere Macchitella, sono diversi gli elementi interessanti che sono emersi nel corso della riunione, tra cui una proposta che inoltrerete presto a Palazzo di Città. L'Assemblea di Macchitella è stata l'occasione sia per poter presentare ai residenti le attività che in questi mesi abbiamo intrapreso, con sia le notizie positive, quindi i risultati che sono giunti in questi mesi, sia quelle che ci aspetteremo nei prossimi mesi. Mi è stata anche l'occasione di presentare una bozza di regolamento istitutiva dei comitati di quartiere con annesso una proposta di bilancio partecipato. È un'idea innovativa perché il bilancio partecipato prevede di chiedere al Comune di stanziare il bilancio di previsione delle somme a destinare a tutti i quartieri, quindi per la manutenza ordinaria e straordinaria a tutti i quartieri. I cittadini, conoscendo queste somme, possono poi chiedere lavori nel quartiere per un ammontare complessivo alla somma stanziata. Questa proposta ha due vantaggi notevoli. Il primo è che abbiamo le coperture, quindi non avremo più cantieri che iniziano e rimangono incompleti. E la seconda è un ritorno occupazionale, perché quando il Comune andrà a stanziare ogni anno delle somme per tutti i quartieri, noi avremo la presenza di numerosi cantieri in tutta la città. E quindi comunque avremo una piccola boccata d'ossigeno sul piano occupazionale in tempi di crisi. Credo che sia una buona opportunità di lavoro. Voi chiedete l'interlocuzione naturalmente con gli organi politici, però vi ponete come ente politicamente assolutamente trasversale. Inoltre chiedete che tutti i comitati di quartieri della città siano assolutamente attivi. Certo, proprio per questo abbiamo presentato una bozza di regolamento che permette, in dando di regolamentare in maniera equa la vita di ogni comitato di quartiere, sia dal punto di vista dell'elezione, sia dal punto di vista della vita stessa del comitato. Questo, chiaramente legato al discorso del bilancio partecipato, permette di avvicinare i cittadini alle istituzioni, perché sono loro che propongono direttamente al comitato di quartiere, che poi si fa a portavoce, quelli che sono i progetti più interessanti e quelli che ritengono più utili per il comitato stesso.